E' andato in fiamma il traghetto che collega Bieste alle isole Tremiti. La scorsa notte un incendio doloso ha distrutto il sorrento jet che effettua il collegamento dal Gargano alle Tremiti. L'imbarcazione era ormeggiata all'interno del porto garganico presso il molo di San Lorenzo quando intorno alle 4 qualcuno ha piccato l'incendio. Sul posto sono intervenuti alle operazioni di spegnimento la motovedetta CP880, unità della protezione civile della sezione B di Vieste Pegaso e i vigili del fuoco di Vico del Gargano. Le fiamme sono divampate molto facilmente grazie anche al vento forte dell'altra notte. Come detto sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Non è il primo dei tentativi di incendio che subisce il natante della sorrento jet. Già lo scorso anno qualcuno tentò di danneggiarlo ma senza riuscirci. Chi ha agito questa volta ha utilizzato liquido infiammabile e un innesco di tipo raudo. I danni sono ingenti e la compagnia proprietaria del taghetto non potrà utilizzare il natante che è oltretutto finito sotto sequestro per l'indagine aperta sull'accaduto.